Il giudice per udienze preliminari di Agrigento, Francesco Provenzano, ha emesso una sentenza di non luogo a procedere per il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, accusato di falso in atto pubblico, abuso di ufficio e omissione di atti di ufficio per avere disatteso il protocollo stipulato dal suo predecessore, Pasquale Amato, con la Procura della Repubblica in materia di demolizione di immobili abusivi. Castellino, difeso dagli avvocati Santo Lucia e Vincenzo Aresci, era accusato di avere imposto l'alta alle demolizioni per ottenere in cambio un vantaggio in termini di consenso elettorale. Ha solo dato un indirizzo politico diverso, hanno sostenuto i suoi legali, tanto che nelle prossime settimane anche a Palma inizieranno le demolizioni. Il giudice, dopo una lunga udienza preliminare, scandita da diverse udienze, ha rigettato la richiesta di invio a giudizio presentata dal Pubblico Ministero Gloria Andreoli. «Sono sollevato», commenta Caldo Castellino, «ho sempre avuto fiducia nella giustizia e nell'autorevolezza del giudice. Vado avanti per la mia strada, soddisfatto di questa sentenza che riconosce la mia trasparenza. Le demolizioni vanno avanti, non le ho fatte bloccate, ho solo dato un indirizzo politico diverso a chi adesso sarà portato avanti dagli uffici». Castellino ringrazia i suoi difensori, sono stati molto professionari e appassionati nell'assistermi con passione ed impegno e grazie a loro che siamo arrivati a dimostrare la verità.